Ora non ci sono più dubbi, il Bari 2024-25 ripartirà dal tandem formato da Giuseppe Magalini e Moreno Longo. A fare da tre d'union tra il nuovo direttore sportivo e l'allenatore piemontese ci sarà chi ha lavorato con entrambi. Quel Valerio Di Cesare che una volta appesi gli scarpini al chiodo è pronto a immergersi a pieno titolo nel presente da dirigente con il compito di affiancare l'uomo mercato dei biancorossi e di fare da cuscinetto tra area tecniche squadra. Un percorso che il 41enne romano ha già avviato forte anche del carisma e della leadership riconosciuta da quelli che ormai sono i suoi ex compagni di squadra. A Magalini Di Cesare è legato dai tempi di Mantova dove il 62enne fresco di addio con il Catanzaro era di esse mentre il rapporto di stima con Longo risale ai tempi del Torino. Il centrale romano era pilastro della difesa, l'attuale guida tecnica del Bari allenava la primavera Granata. L'intenzione di Magalini è lungo, emersa nei contatti avuti tra le parti con l'intermediazione della società e quella di presentarsi ai nastri di partenza del ritiro di Roccaraso con la rosa completa almeno per tre quarti. Un compito complesso considerando i 10 addi già consumati rispetto alla scorsa stagione per fine contratto e le valutazioni da portare a termine tra i giocatori in organico compresi quelli di rientro dai prestiti della scorsa stagione. La certezza è che il Bari dovrà comprare e tanto per rinforzare una squadra che l'anno scorso si è salvata soltanto attraverso la coda dei play-out. Numeri alla mano, la sensazione è che il reparto che andrà maggiormente ritoccato sarà l'attacco, l'addio con Nasti rientrato al Milan e quelli con meteore di lusso come Diopusca, Scallone e Aramu hanno avuto l'effetto di rendere Sibilli, riscattato dal Pisa, ancora più centrale di quanto i 12 gol della scorsa stagione. Hanno fatto capire, la ricerca di un centro avanti di spessore sarà un passaggio chiave per rendere tangibili le ambizioni della prossima annata. Così sono già due i nomi sul tacquino nel ruolo già note a Longo e Magalini. Con il DS ha lavorato a Catanzaro Tommaso Biasci, 30 anni a novembre, ha chiuso la stagione con 11 reti e 4 assist play-off inclusi e in un calcio come quello di Longo, che prevede le due punte, sarebbe un incastro perfetto. Ancora un anno di contratto con i calabresi, ma un sondaggio con l'entourage appare alle porte. Altro profilo monitorato è quello di Giuseppe Ambrosino, 21enne di proprietà del Napoli, allenato due anni fa da Longo a Como per qualche mese e ha avuto in rosa l'anno scorso da Magalini a Catanzaro. Sul giocatore, tre gol in 28 partite, ci sono anche le attenzioni di Frosinone e Parma. Tra i profili di proprietà del Napoli il Bari sta riflettendo su un gioio offensivo come Lorenzo Sgarbi. Le sue credenziali sono quelle di un giocatore inseribile in lista under, è nato nel 2001, è capace di giocare sia da seconda punta che da esterno a tutta fascia. Ha chiuso la stagione ad Avellino nel gruppo C di Serie C con 8 golle e 15 assist in 40 partite. Reti, esperienza e freschezza per ricostruire l'attacco. Il Bari cerca il collage ideale.